Quello di sabato sera è solo l'ultimo degli episodi di Movida, violenta a Chieti. Protagonista ancora la zona dello scalo e ragazzi tra i 17 e i 20 anni. Questa volta a far degenerare una tranquilla serata la risposta negativa alla richiesta di un accendino. Così il minore si è sentito in dovere di poter prendere a pugni in faccia il malcapitato che è stato trasferito in ospedale riportando lesioni ad un occhio e al braccio. Per il ragazzo autore del folle gesto potrebbe essere adottato il cosiddetto daspo Willy. Sulla questione è intervenuta l'amministrazione comunale che in questi mesi ha avviato un percorso di responsabilizzazione delle attività legate alla somministrazione di bevande alcoliche. È chiaro che però il tema è sociale e per quanto stiamo facendo comunque ci rendiamo conto che non è mai abbastanza. Ma non è mai abbastanza perché ovviamente le cause vanno ricercate in problematiche di natura diversa. È chiaro che come amministrazione siamo, ripeto, al lavoro per contrastare questo fenomeno però nell'ambito dei perimetri delle nostre pertinenze. Come assessorato alle politiche giovanili abbiamo più volte promosso incontri nelle scuole. È chiaro che è un lavoro duro, ma è un lavoro importante. Ma perché deve essere un percorso costruttivo? Un percorso costruttivo che facciamo anche in maniera sinergica con il mondo della scuola. Ma tornando ai fatti di specie, non ritengo che siano problemi di orari o problemi di altra natura. In passato abbiamo affrontato, ripeto, questi aspetti anche con dei provvedimenti amministrativi precisi. Oggi il tema è quello del controllo e del monitoraggio. Le forze dell'ordine fanno un lavoro straordinario e noi siamo ovviamente pronti, come lo abbiamo fatto anche proprio restando nel tema durante lo scorso weekend, ad attivare le nostre forze di polizia locale per avviare dei controlli congiunti.